100 euro papà 100 euro? ma qui ha un filo tanto va a chi? 10 euro 10 euro un filo se fai 5 chine la costa su 50 euro ma che ti cerci molino? bambino ma è forte a fare stai indossare questa cosa c'è in artista ma che stai facendo? ma hai premesso 100 euro la cuscetta è da qui tu sei esperto io aspettalo un po' che ecco ci sono i soldi dei miei zinni c'è la fotografia ecco ci sono i gusciotti questa è corruzione c'è la coscia ma ora ti credo che l'avviso di garanzia non è sufficiente è sufficiente per sospendersi però prima era sufficiente e vabbè ma ora sono cambiati e ora c'è la razza di mezzo però è forte è forte guarda che tosta è vero va forte lo dice il titolare quindi è forte questo è il titolare della cattedrale i dipendenti della pubblica amministrazione sono un po' lì specialmente come ci è passata la regione specialmente come ci è passata la regione la regione la regione ma si chiama il giardino il giardino zoologico il giardino zoologico ci hanno incarrito il controllo di cacciatore ha detto ai tre o controllo di cacciatore ma oltre ai cacciatore ha anche la selezione degli abbattimenti per gli unculati capito? anziché dare la cattedrale abbiamo tutta la responsabilità di unculati di unculati unculati di nome e di fatto oh